Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video andremo a vedere come dettare un testo con qualsiasi software in Windows Quindi praticamente utilizzando questo metodo possiamo dettare quello che vogliamo a qualsiasi software Anche se il software non ha uno strumento di dettatura interno Quindi se non dispone di uno strumento che ci permette di dettare possiamo farlo comunque grazie all'assistente vocale di Windows Vedremo diversi esempi, quindi il primo esempio è l'esempio di WordPad Che utilizzo perché mi è stato richiesto nei commenti su YouTube Quindi partendo da quell'idea vediamo quindi come farlo con WordPad Poi vediamo che comunque è una cosa fattibile con qualsiasi software abbiamo su Windows Questa cosa funziona sicuramente su Windows 10 Non saprei dirvi sulle versioni precedenti Probabilmente Windows 8 sì Windows 7 probabilmente no Perché credo che sia collegata a Cortana Quindi non saprei dirvi se le versioni precedenti hanno questa opzione abilitata O comunque se dovessero averla magari non ce l'hanno collegata a Cortana ma funziona Comunque su Windows 10 è completamente funzionante Quindi apriamo il programma all'interno del quale vogliamo andare a dettare E premiamo la combinazione di tasti da tastiera tasto Win più tasto H Quindi Win H Si aprirà Disattiviamo un attimo Non so perché mi ha scritto stupida Non... Allora poi andiamo a dettare meglio Si aprirà questa schermata Quindi abbiamo Il riconoscimento vocale che ci permette di andare ad ascoltare quello che diciamo Se dovesse esserci scritto che bisogna attivarlo Quindi ci dovesse essere scritto seleziona una casella di testo Facciamo clic su quel testo Si aprirà un'impostazione di Windows Con la spunta su disattivato Attiviamola Praticamente stiamo dando l'autorizzazione a Cortana di ascoltare quello che diciamo Quindi attiviamola Chiudiamo l'impostazione Ritorniamo qui E avremo adesso la barra così come la vedete A questo punto possiamo cliccare sul microfono Che inizierà ad ascoltarci Quindi cliccando inizierà ad ascoltarci Cliccando di nuovo smetterà di ascoltare Da questo momento quello che dico verrà scritto nel campo che ho selezionato Ora ho disattivato il microfono non verrà più scritto Ora il microfono è di nuovo attivo Quindi tutto quello che dirò verrà scritto all'interno di WordPad In questo modo possiamo andare a scrivere all'interno di qualsiasi software che permetta di scrivere Come altra prova andiamo a vedere altri due software Che sono Ecapad Che è un software sviluppato da me Che ha più o meno le funzionalità base del blocco note Con alcune cose in più E proprio il blocco note di Windows Quindi andiamo a vedere due software che non supportano in nessun modo la dettatura Quindi non prevedono che il testo venga dettato Ma semplicemente scritto Che invece possono essere utilizzati grazie a questo strumento Quindi andiamo su Ecapad Provo ora a dettare un testo a questo software E' meno immediato perché come detto non supporta la dettatura WordPad E' un po' più avanzato su questo Andiamo a vedere la stessa cosa sul blocco note Ora sto dettando un testo al blocco note di Windows Vediamo che anche in questo caso Quello che leggo verrà scritto automaticamente all'interno del blocco note Vediamo un ulteriore esempio dell'applicazione Dell'utilizzo quindi della dettatura Ad esempio apro una nuova email Quindi vado a scrivere una nuova email In questo caso io utilizzo Thunderbird Quindi vado a selezionare il campo nel quale voglio andare ad inserire il testo Attivo la dettatura e inizio a dettare la mia email Buongiorno Virgola Ok Non riconosce immediatamente la virgola Dopo viene sostituita la parola virgola con la virgola Quindi possiamo continuare ad esempio A capo Questa email E' una prova Dell'assistente vocale di Windows Abbiamo visto che quindi ci basta pronunciare correttamente Ovviamente dobbiamo stare attenti alla pronuncia Perché potrebbe scrivere male alcune parole Ad esempio non so per quale motivo Del me l'ha scritta con la lettera maiuscola E' all'interno di una frase quindi non c'è proprio un motivo Anche la E accentata Cioè non ha senso scriverla in maiuscola all'interno di una frase Non c'è un punto, non c'è niente Quindi ci sono alcuni errori Quindi alcune cose probabilmente dovranno essere corrette Però sicuramente ci permette comunque di dettare un testo Senza doverlo scrivere Non saprei dire se dettarlo velocemente funziona Ad esempio se io parlassi normalmente Non so se riconoscerebbe tutte le parole O ci potrebbe essere qualche errore Magari non riuscirebbe a riconoscere qualcosa Vediamo se sta riconoscendo tutto oppure no Ok Stavi non... Se sta riconoscendo... Stavi conoscendo invece di sta riconoscendo Probabilmente la mia pronuncia non è stata perfetta Comunque come detto non riesce a riconoscere perfettamente tutto Quindi qualche errore c'è Qualcosa da modificare c'è Ma permette comunque di risparmiare tanto tempo Perché possiamo parlare come avete visto Anche a una velocità abbastanza normale Quindi io finora nella prima parte del video Ho parlato molto lentamente Abbiamo visto questa parte invece L'ho letta, l'ho detta così normalmente E è riuscito a riconoscere quasi tutte le parole Ovviamente non ci sono virgole, non c'è nulla Dobbiamo dirgliele noi Quindi se dobbiamo inserire una virgola, un punto, un a capo Dovremmo essere noi a dirglielo Comunque con questo metodo possiamo dettare un testo in qualsiasi campo Quindi basta che un software abbia un campo nel quale scrivere Lo selezioniamo Clicchiamo sul microfono e iniziamo a parlare E tutto quello che diremo verrà scritto Clicchiamo nuovamente sul microfono e finirà la dettatura Poi ci basterà cliccare sulla X per chiudere l'assistente vocale Per concludere quindi vi ricordo Tasto Win più H Win H E attiviamo l'assistente vocale Che parte subito al riconoscimento Quindi appena lo attiviamo inizia ad ascoltare il testo Quindi vi consiglio se lo attivate di non parlare Disattivare il microfono Prepararvi poi a iniziare a parlare Ovviamente se invece siete già pronti per parlare Una volta attivato potete già iniziare a dire Quello che andrà scritto Con questo è tutto Vi ringrazio per aver seguito questo video Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao